Sono stati presentati oggi nella sala consigliare di Mondolfo i lavori di manutenzione delle scogliere del tratto di Marotta, interventi tanto attesi dalle strutture balneari ma anche dai cittadini stessi presenti alla conferenza, il sindaco Barbieri e l'assessore regionale alla difesa della costa Aguzzi insieme ad assessori e tecnici che hanno presentato il cronoprogramma. La regione Marche ha ottenuto altri 1,6 milioni di euro dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale che verranno utilizzati per completare il tratto a difesa della costa danneggiata dalle violenti mareggiate del novembre 2019, fenomeni che hanno prodotto nelle aree costiere della regione danni sia al patrimonio pubblico che privato. Infatti dopo questi eventi Mondolfo è rientrata tra i comuni danneggiati e inseriti nell'elenco di quelli interessati dallo stato di emergenza. Intervento importante e anche sostanzioso perché sommano due interventi, uno da 360 mila euro che era stato portato avanti con un bando a fine dello scorso anno, sempre un bando del mio assessorato che si era giudicato il Comune di Mondolfo per una parziale sistemazione della scoglia della zona centrale di Marotta. A questo invece oggi succede un nuovo finanziamento più sostanzioso di un milione e mezzo, quindi un milione e mezzo di più 360 mila e ora arriviamo a un milione e nove quasi di intervento che di fatto andranno su un progetto redatto dal Comune di Mondolfo che andranno a manutentare quindi a risistemare le scogliere già esistenti, quindi non si parla di nuove scogliere, le scogliere già esistenti che sono scogliere soffolte che si sono degradate nel tempo come normale che sia e non garantiscono più diciamo la difesa di quel tratto di arenile, di spiaggia. A questo punto con questi lavori noi riportiamo quelle scogliere diciamo alla loro fase iniziale, quindi le ristoriamo, le sistemiamo. Credo che facciamo un buon servizio per tutto il litorale di Marotta e per tutta l'attività balneare e turistica che svolge su questo e quel territorio. Sindaco Barbieri, un intervento senza precedenti nel Comune di Mondolfo, come si dividono i lavori? Il finanziamento di 1.960.000 euro è diviso in due stralci. Il primo stralcio di 360.000 euro riguarda il tratto del litorale di Marotta che va da circa all'altezza di Villa Valentina fino a Piazza Roma e per quanto riguarda invece il secondo stralcio di 1.600.000 euro riguarderà il tratto a nord a sud, quindi all'incirca dalla colonia Santa Cecilia fino al sottopasso Togliatti. Quindi un intervento che ci permetterà di difendere due chilometri circa di costa del nostro territorio. Per quanto riguarda il primo stralcio i lavori sono in corso di affidamento, quindi verrà avviato sicuramente nel 2023, quindi lo stralcio da 360.000 euro. Per quanto riguarda invece lo stralcio di 1.600.000 euro faremo la gara entro novembre di quest'anno e quindi nell'inverno, diciamo, tra la fine 2023 e il primo semestre 2024 avvieremo anche qui i lavori, quindi prima dell'estate del 2024.